Un incontro ieri tra la dirigenza della SOACO e i sindaci del comprensorio Ebleo per discutere un piano strategico che possa favorire l'incremento delle presenze turistiche negli ambiti territoriali afferenti l'aeroporto di Comiso. Un progetto presentato dal presidente Silvio Melli e dall'amministratore delegato Giorgio Cappello, oltre che ai primi cittadini dei comuni della provincia Eblea, anche ai rappresentanti del libero consorzio comunale e della Camera di Commercio di Ragusa interessati a cofinanziare il progetto. L'importo complessivo sfiorerebbe i 7 milioni di euro per una durata di tre anni e potrebbe essere attuato già il prossimo anno per avere ricadute sul traffico aeroportuale dell'estate 2018. I comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Palazzola Creide, Giarratana, Monte Rossoalmo, Vittoria, Santa Croce e Camerina, Chiara Montegulfi, Comiso, Ispiche e Acate hanno confermato all'unanimità la volontà di partecipare al progetto e alla convenzione d'ambito da stipulare frasso acqua i comuni per favorire l'incremento delle presenze turistiche nel territorio. La riunione è stata anche l'occasione per stimolare tutti i comuni a istituire la tassa di soggiorno e a destinarne almeno il 40 per cento di quella dotazione finanziaria per progetti destinati a incrementare il flusso di passeggeri in arrivo all'aeroporto di Comiso. Tutti uniti quindi per salvare il Piola Torre che di certo non naviga in buone acque, con i conti in rosso e la possibilità di una ripresa che si intravede non prima del 2019. Ieri intanto sono stati resi noti dati di traffico relativi al mese di luglio durante il quale nell'aeroporto casmeneo sono stati superati 50.000 passeggeri, un incremento del 6,85 per cento che sembra però poca cosa se paragonata a quello del 15,7 per cento registrato da Catania che ha vissuto il luglio da record superando il milione di presenze. Comiso arranca e resta sempre nell'ombra del grande scale Etneo che fa la parte del leone arrivando addirittura ad attestarsi al sesto posto tra gli aeroporti italiani. Si spera ora che la SAC che tramite Intersac è il 65 per cento delle quote della Soaco e che gestisce l'aeroporto di Comiso riesca ad imprimere lo stesso sprint di Fontana Rossa anche allo scale ebleo.